Sono Berardi Giovanni, l'amministratore dell'azienda Berardi SRL. Noi ci occupiamo di vendita di prodotti e materiali per l'agricoltura, per l'impiantistica e antinfortunistica. Siamo leader nel settore dei pali in castagno, pali in cemento, tutto ciò che serve per la realizzazione di un vigneto o di un tendone. Inoltre vi ricordiamo che iniziando da un buon impianto si ottengono ottimi risultati. Ci trovate a Noi Cattaro, strada provinciale per Casa Massima, presso la zona P. Noi Cattaro, spiegati a Noi Cattaro.